Un piano straordinario di contenimento per tornare a un equilibrio virtuoso riducendo il numero di ungulati, ridefinizione dei confini delle zone non vocate alla presenza di fauna selvatica per tutte le aree coltivate e revisione delle politiche di risarcimento per gli agricoltori con attività di prevenzione a carico delle istituzioni. Queste le tre proposte avanzate da Coldiretti Toscana e AB AgriVienatoria Biodiversitalia all'incontro dedicato all'emergenza ungulati in regione. A 30 anni dall'approvazione della legge 3 che ha disegnato lo scenario della pratica faunistica venatoria in questa regione crediamo come mondo agricolo che sia arrivato il momento di fare una riflessione congiunta. In Toscana montano a oltre 20 milioni i danni alle coltivazioni causati dai circa 400 mila ungulati presenti nelle campagne. Tra le produzioni più colpite l'uva, i campi di mais e cereali e ancora favino ed erbe mediche utilizzate per l'allevamento del bestiame lenticchie e legumi, farro, orzo, castagne ed ortaggi a pieno campo. La principale calamità è rappresentata dai cinghiali responsabili dell'80% dei danni complessivi seguita da caprioli e daini. Ecco noi proponiamo un pochino il nostro modello che non deve essere uguale su tutto il territorio ma insomma il modello degli istituti faunistici privati ha in questo senso un grandissimo risultato perché gli interessi di entrambe le parti coincidono in questi territori e quindi si ha un sistema di sostenibilità decisamente migliore che porta dei vantaggi a tutto il territorio. Grazie.